L'attività di intercettazione e le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo di Rome e dalla squadra mobile alla questura di Frosinone hanno messo in luce il sistema corruttivo e hanno consentito di individuare professionisti e imprenditori che hanno potuto pilotare gli appalti grazie alla complicità di amministratori dipendenti del comune. I fondi venivano riciclati e monetizzati attraverso un sistema ribattizzato tangente fattura ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e in relazione a questo la Polizia ha stamani effettuato il sequestro preventivo finalizzato a confisca di oltre 500 mila euro.